Quello che potrebbe accadere è una rivisitazione complessiva della rappresentanza in Consiglio Comunale che stravolgerebbe totalmente gli equilibri politici dell'Assise. Cosa succede? Udc e Patto per il Territorio sono pronti a presentare un ricorso al Tar sull'assegnazione dei seggi dopo le elezioni comunali. L'obiettivo rendere inefficace l'apparentamento di Totopennica. Come noto infatti tra il primo turno e il ballottaggio, Fli ed MPA hanno ufficializzato l'alleanza con il candidato Pennica entrando nella coalizione insieme a PDL, Grande Sud e Cantiere Popolare. Un apparentamento che ha fatto così saltare il premio di maggioranza Marco Zambuto. Una modalità prevista dalla legge, ma i promotori del ricorso sono fiduciosi ritenendo che vi siano gli estremi per far valere le loro ragioni, ma al momento non sappiamo nel merito le contestazioni avanzate. Intanto tutte le carte sono nelle mani del professore Corso di Palermo, un esperto in materia che già lunedì potrebbe formalizzare il ricorso al Tar. Ma cosa comporterebbe un verdetto favorevole del Tribunale Amministrativo? Rilevanti novità scatterebbe il premio di maggioranza Marco Zambuto. In pratica 10 consiglieri al patto per il territorio, che al momento ne ha 5, e 9 per l'Udc, cioè 5 in più degli attuali. Di conseguenza PDL, MPA, Grande Sud, Fli, Cantiere Popolare e PD, che oggi insieme sono rappresentati da 21 consiglieri, dovrebbero dividersi solo 12 seggi. Una riduzione davvero seria. Tanta carne sul fuoco, pertanto, e il 7 giugno è prevista la prima seduta del nuovo consiglio comunale, ma il ricorso potrebbe creare un clima molto particolare.